Ogni poliziotto, per la natura stessa della scelta che ha fatto un mestiere che lo espone al pericolo, fornisce l'habitat ideale allo stress. Imparare a riconoscerne i sintomi, ma anche e soprattutto a prevenirlo e a coltivare la propria resilienza, significa affidare il territorio a persone pronte a gestire ogni situazione. Fornire gli strumenti più adeguati, l'attrezzatura psicologica e le giuste tecniche è questo l'obiettivo del convegno a carattere formativo organizzato oggi a Pescara dal SAP, il sindacato della Polizia di Stato. Matteo Mascitti è il vice segretario provinciale del SAP, il SAP, il sindacato della Polizia di Stato, che ha organizzato questo convegno. È importante essere consapevoli che lo stress derivante dalla nostra attività lavorativa è inevitabile ed è importante essere consapevoli del fatto che bisogna imparare a gestirlo. Questo è molto importante ed è questo che ci interessava mandare come messaggio soprattutto alla nostra comunità, ma anche all'intero corpo sociale, nel senso che non bisogna percepire il poliziotto come una persona infallibile o che abbia dei superpoteri particolari. Il poliziotto è una persona come tutte le altre e può avere dei problemi come ce li hanno tutti gli altri ed è quindi importante imparare a riconoscere alcuni fattori, elementi di disagio e a tenerli sotto controllo. Questo è il senso di questo convegno. Speriamo di aver dato, non dico una o più risposte, ma di aver fornito degli elementi utili per riuscire a comprendere quali sono i campanelli di allarme. L'ultima la faccio al sindacalista. Qual è la vostra rivendicazione principale? La nostra rivendicazione principale è quella di trovare un punto di incontro che riesca a far incontrare le esigenze dell'amministrazione con quelle del personale. Adesso noi abbiamo parlato solo di fattori di stress relativi strettamente all'attività lavorativa, ma dobbiamo essere onesti nel dire che il fattore di stress è anche relativo per esempio alle poche risorse, ai rapporti gerarchici, agli organici che sono all'osso e che oggi purtroppo creano problemi di varia natura. Io credo che le regole ci sono e debbano essere rispettate, rispettate da tutti, altrimenti siamo nella confusione più totale e non nella serenità. L'importante è sapere che poi i comportamenti saranno esaminati tutti allo stesso modo. È come un arbitro di calcio che sistematicamente non punisce i teckel, come si suol dire. Se lo fa per tutti va bene, se invece crea delle zone di impunità si creano dei motivi di rancore, di stress e di fastidio. Questa secondo me è la prima regola. E poi la possibilità sempre all'interno dello stesso ufficio di rivolgersi a qualcuno per tentare di risolvere o attenuare il problema o quantomeno per sfogarsi, che ci sia qualcuno che possa, anche se non può fare niente per risolvere, possa perlomeno consentirti di aprirti e non richiuderti in te stesso, che è uno dei motivi più gravi di stress, che aumenta lo stress e può portare anche a conseguenze drammatiche.